In questi giorni noi ci siamo interrogati per cominciare a pensare al dopo. Dopo questa fase acuta emergenziale occorrerà che questo paese ricominci a correre e quindi è necessario cominciare a pensare fin da adesso a quello che avverrà dopo. Per questo motivo siamo qui per annunciarvi quali sono le nostre proposte per il rilancio successivo. Innanzitutto al di là dello sforamento che è stato concesso occorrono ulteriori misure. Oggi si è parlato dell'allentamento dei crediti, della sospensione dei crediti da parte delle banche nei confronti delle imprese. Per farlo però serve che da parte dell'Europa ci sia un allentamento delle misure restrittive nei confronti dei crediti delle banche. Oggi c'è una necessità per le banche di rientrare dai crediti dentro certi limiti. Ma fare questo porterà le banche ad avere un problema nel momento in cui sono sospesi i mutui nei confronti delle aziende. Quindi per consentire liquidità alle aziende occorre allentare anche la tensione sopra le banche. Bisogna lavorare sul patto di stabilità. Il patto di stabilità consente all'interno del patto di stabilità ci sono misure che si possono attuare per superare i vincoli in queste situazioni emergenziali. Dobbiamo adottare ogni misura necessaria per avere quegli investimenti, quella capacità di investimento per rilanciare il Paese. Per quello che avviene dopo, per potenziare la sanità, il servizio sanitario pubblico che abbiamo visto oggi, come si trova di fronte a un'emergenza e ha bisogno del nostro sostegno. In questo annuncio già fin da adesso che è mia intenzione proporre che la destinazione dei soldi che restituiamo come parlamentari del Movimento 5 Stelle, lo proporrò nelle modalità che è previsto dalle nostre regole, proporrò che siano destinati all'acquisto di macchinari per la terapia intensiva nei nostri ospedali pubblici. Quindi proporrò di destinare alla protezione civile per procedere con l'acquisto di macchinari per la terapia intensiva che servono oggi ma serviranno anche domani perché sono attrezzature che rimangono a disposizione.